non ci sono buone notizie per la saritana almeno non sono buone le notizie che arrivano dall'infermeria perché liberani alla vigilia della gara di udine deve rinunciare prendere atto delle defezioni di federico fazio che pure sembrava sulleve del recupero spiegazione quella del mister granata legata a problemi non muscolari insomma sembra che abbia avuto problemi intestinali e poi non ci sarà neanche boateng problema non grave ma comunque tale da impedirgli di essere tre convocati non ci saranno neanche ghiomber pirola e pierozzi dunque difesa con gli uomini più che contati per liberani che avrà a disposizione come centrali manolas pasalidis e pellegrino il dubbio della vigilia e se giocare con due di questi riportando uno in panchina oppure se giocare con la difesa tre come nelle altre partite rinunciando poi ad un centrocampista vedremo quali saranno le scelte di liberani che sembra comunque orientato a giocare con il 4 3 1 2 dando a candreva il ruolo di trequartista alle spalle di due punte per una partita quella di udine che resta una partita da provare quantomeno a vincere allora ascoltiamo le dichiarazioni di liberani alla vigilia della gara di udine è evidente che la nostra situazione non ci dà possibilità di non giocare per la vittoria questo è fuori discussione visto che ci attardiamo in classifica in modo importante e quindi dobbiamo giocare per vincere la partita questo non vuol dire farla no in modo scriteriato va fatta una partita equilibrata va fatta una partita importante incontriamo una squadra che ha delle caratteristiche ben definiti molto fisica quindi dobbiamo cercare di essere compatti fare una partita giusta equilibrata stare dentro la partita e cercare di sfruttare le occasioni che riusciremo a creare questo sicuramente e concedere il meno possibile sicuramente è vero che io ho sempre preferito giocare con la linea difesa a quattro sono arrivato qua con una squadra che negli ultimi due anni due anni e mezzo ha giocato sempre a tre ma oltre a questo c'è c'è una problematica numerica in questo momento non non recuperiamo nessuno dalla partita scorsa e quindi neanche faccio quindi numericamente non siamo messi bene anzi in confronto a bua a monza perdiamo anche bua tenga e quindi questo un po è il cruccio che ho fino a domani per cercare di capire come come poterla gestire però l'idea de di giocare con una linea 4 era dal primo giorno che ero qui devo devo capire come poterla fare ma sai sai le le osservazioni sono tante no e vanno fatte anche nel lungo periodo sicuramente un problema c'è idealmente non so se è strutturale non so se per per mentalità è vero però non ci possiamo nascondere che noi alla salernitana da tanto tempo prendiamo sempre tanti gol quindi probabilmente e sicuramente abbiamo mi ci metto anch'io no sono passati tantissimi allenatori eh tantissimi giocatori questo problema non si riesce a a risolverlo tanto eh credo che si può un pochino risolvere con il lavoro con l'organizzazione e probabilmente dico io anche con la continuità di un reparto che gioca insieme si conosce ecco forse anche la difficoltà della salernitana è proprio perché non c'è quasi mai un reparto che lavora insieme e questo sicuramente amplifica ancora di più le difficoltà perché ogni reparto ma la difesa su tutti più gioca insieme e più trova eh equilibrio si conosce si aiuta capisce le qualità del compagno cioè giocare insieme più partite sicuramente può aiutare la conoscenza Candreva Candreva è un giocatore offensivo oggi è un giocatore offensivo non è più un giocatore che può possiamo sfruttarlo sulla quantità e quindi dobbiamo cercare di trovare quella collocazione dove poterlo sfruttare al massimo sicuramente può giocare dietro le punte trovarsi i suoi spazi può giocare sotto punta come ha giocato spesso insieme a un altro però è un giocatore offensivo ragazzi era un giocatore e poi Grazie a tutti